Video numero 12 sull'argomento del calcolo delle aree tramite il calcolo integrale. Esercizio numero 1 determina l'area della regione di piano che rappresenta le soluzioni del sistema. Allora in questo caso c'è un sistema che dice che y deve essere compreso tra 1 e 2 e che il modulo di x per y deve essere minore o uguale a 4. Andiamo a vedere cosa significano queste limitazioni. Partiamo dal secondo. La seconda condizione ci dice che y deve essere minore o uguale a 4 diviso il modulo di x. Questa è un'iperbola equilatera. Abbiamo la presenza di un valore assoluto e quindi questo significa che se x è maggiore o uguale a 0 y è minore o uguale, chiamiamola 1, a 4 fratto x. La prima è un'iperbole equilatera riferita ai suoi assi e che possiamo disegnare nel primo quadrante, cioè ha il ramo nel primo quadrante. Quindi facciamoci già il disegno. Per x maggiore di 0 siamo qui. La seconda, cioè y con 2 minore o uguale a meno 4x, se la facciamo uguale a meno 4x, è il ramo speculare, sempre un'iperbole equilatera, e il ramo speculare rispetto all'asse delle y. L'altro limite, y uguale a 1 e y uguale a 2, ci dice che dobbiamo prendere in considerazione le due rette y uguale a 1 e y uguale a 2. Quindi qui segniamoci y, partiamo dalla 4 che è y uguale a 2, poi abbiamo la 3, y uguale a 1, poi abbiamo il ramo y1 e il ramo y2. E questa è la situazione. Il problema ci chiede di calcolare l'area che vado a segnare. Visto che si ha una simmetria rispetto all'asse delle y, possiamo calcolare l'integrale o gli integrali, perché saranno due, di uno dei due settori divisi dall'asse delle y e moltiplicarlo per 2. Prendiamo in considerazione il semipiano positivo delle x, calcoliamo i punti di intersezione tra le due rette e il ramo dell'iperbole y1, in modo da stabilire anche gli estremi di integrazione. Per quanto riguarda y1, che è uguale a 4 fratto x, abbiamo se y è uguale a 2, x sarà uguale a 4 diviso 2, cioè 2. Se y è uguale a 1, x sarà uguale a 4 e quindi questo ci permette di scrivere i seguenti integrali. Abbiamo detto che dobbiamo moltiplicare per 2 e quindi avremo l'integrale tra 0 e 2 di y4, cioè la retta y uguale a 2, meno y3, cioè la retta y uguale a 1, questo in dx, cioè stiamo calcolando l'area di rettangolo che vado a specificare sul grafico, questa qua che segno in rosso, e poi più 2 volte l'integrale tra 2 e 4 di y1, che è il ramo di iperbole, meno y3, che è la retta y uguale a 1, in dx, uguale. Sostituiamo e abbiamo 2 volte l'integrale tra 0 e 2, e qui è semplice, abbiamo 2 meno 1, e cioè 1 in dx, più 2 volte l'integrale tra 2 e 4 di y1, quindi 4 fratto x, meno y3, che è 1, più 2 volte l'integrale tra 0 e 2 di dx, più 2 volte l'integrale di 4 fratto x, meno 1, in dx, da integrare tra 2 e 4. Andiamo a calcolare le primitive e abbiamo, uguale, 2 volte di x calcolato tra 0 e 2, e poi più 2 volte, 4 logaritmo del modulo di x, meno x, da calcolare tra 2 e 4, uguale. Dal primo termine abbiamo 2 che moltiplica 2 meno 0, dal secondo abbiamo 2 che moltiplica 4 logaritmo naturale di 4, che scrivo 2 al quadrato, meno 4, e poi meno, diamo a capo, meno 4 logaritmo naturale di 2, più 2 uguale, 2 per 2 è 4, più 8 logaritmo naturale di 2 al quadrato, poi abbiamo meno 4 più 2, che è meno 2 per 2, meno 4, e poi il 2 per 4 logaritmo di 2 col meno davanti, quindi meno 8 logaritmo naturale di 2 uguale. 4 e meno 4 si elidono e poi abbiamo, portiamo l'esponente dell'argomento fuori dal logaritmo, 16 logaritmo di 2 naturale, naturalmente, meno 8 logaritmo naturale di 2 uguale, uguale 16 meno 8 è 8, 8 logaritmo naturale di 2, risultato dell'integrale e area richiesta dal problema. determina l'area della regione di piano che rappresenta le soluzioni del sistema. Anche qui abbiamo un sistema x compreso tra meno pi greco e pi greco e y compreso tra un ottavo e il seno al cubo di x. Allora, come prima cosa cerchiamo l'intersezione tra y1, riscriviamocela come un ottavo, e y2 il seno al cubo di x. Questo significa mettere a sistema le due curve, quindi y uguale un ottavo e y uguale seno al cubo di x, cioè seno al cubo di x uguale un ottavo, estraendo la radice cubica tra entrambe i membri abbiamo seno di x uguale un mezzo, e questo significa il seno di x è uguale a un mezzo quando x è uguale a pi greco sesti e x uguale a 5 sesti pi greco. Vediamo di fare un grafico della situazione. Abbiamo pi greco qui e meno pi greco di qua. Ora la retta y1 un ottavo è questa. Sappiamo che a pi greco sesti e a 5 sesti pi greco il seno la interseca, il seno al cubo la interseca. Sappiamo anche che il seno al cubo di x è positivo tra 0 e pi greco, e quindi anche se non sappiamo disegnare esattamente l'andamento del seno al cubo possiamo supporre che esso sia del tipo come ho disegnato in questo caso. Quindi, data la condizione y maggiore o uguale di un ottavo, l'area che ci chiede il problema di calcolare è questa che vado a segnare. Riportiamoci pi greco sesti e 5 sesti pi greco che saranno gli estremi del nostro integrale. Scriviamoci l'integrale e abbiamo integrale tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco di y2 meno y1 quanto il seno al cubo è sopra la retta in dx. Uguale, l'integrale tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco di seno al cubo di x meno un ottavo in dx, uguale. Posso scrivere, andiamo a capo che abbiamo più spazio, posso scrivere l'integrale tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco. Il seno al cubo lo posso scrivere come seno al cubo di x per il seno al quadrato di x meno un ottavo in dx, è uguale. Integrale tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco di seno di x, trasformo il seno al quadro in 1 meno coseno al quadrato di x e poi più andiamo a capo meno un ottavo in dx, mettiamo una parentesi quadra, uguale. Questo diventa integrale ancora tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco del seno di x, adesso moltiplico, meno il seno di x, il coseno al quadrato di x, e me lo riscrivo come coseno di x al quadrato, poi abbiamo meno un ottavo in dx. Ora possiamo integrare. E abbiamo l'integrale del seno di x è meno coseno di x, abbiamo meno seno di x per coseno al quadrato di x, integrale di funzione composta, integrale immediato in quanto il seno di x è la derivata del coseno di x, quindi possiamo scrivere più, stiamo integrando il coseno, in questo caso di x elevato, facciamo tutti i passaggi, almeno siamo più chiari, a 2 più 1 fratto 2 più 1, meno un ottavo x, questo da integrare tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco. uguale, risistemiamoci, meno coseno di x più 1 terzo coseno al cubo di x meno un ottavo x da integrare tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco. Ora possiamo sostituire gli estremi di integrazione e otteniamo meno coseno di 5 sesti pi greco, più 1 terzo coseno al cubo di 5 sesti pi greco, meno, quindi andiamo a capo, meno un ottavo per 5 sesti pi greco, poi dobbiamo cambiare il segno a tutti i termini e sostituire pi greco sesti. Abbiamo più coseno di pi greco sesti, meno un terzo coseno al cubo di pi greco sesti, e poi più un ottavo per pi greco sesti, uguale, uguale. Meno coseno di 5 sesti pi greco è meno radice di 3 su 2, e quindi meno meno è più radice di 3 su 2. Poi abbiamo più un terzo, che moltiplica il coseno al cubo di 5 sesti pi greco, e quindi meno radice di 3 su 2 al cubo, poi abbiamo il meno 5 cu 40 esesti pi greco, poi il coseno di pi greco sesti, che è più radice di 3 su 2, poi ancora meno un terzo, radice di 3 su 2, cioè coseno di pi greco sesti al cubo, e poi abbiamo un più, un pi greco, quarantottesimi, uguale, uguale. Radice di tre mezzi più radice di tre mezzi è radice di tre, quindi abbiamo sommato questo termine con questo termine e poi abbiamo più un terzo che moltiplica la radice cubica di meno il cubo di radice di tre mezzi, che è tre radice di tre ottavi, poi abbiamo, e quindi questo è a posto, abbiamo un meno cinque quarantottesimi più un quarantottesimo pi greco, che è meno quattro quarantottesimi pi greco e semplifichiamo, abbiamo un dodicesimo, quindi anche questo e questo sono a posto e poi rimane meno un terzo che moltiplica la radice di tre mezzi al cubo e quindi tre radice di tre mezzi, ottavi, scusate, uguale. Semplifichiamo tre con il tre e il tre con il tre e abbiamo, andiamo a capo, radice di tre meno radice di tre ottavi meno radice di tre ottavi è meno radice di tre quarti, ho sommato questo termine qua e questo termine qua e poi abbiamo il meno pi greco dodicesimi, questo è uguale, linea di frazione, quattro, quattro radice di tre meno radice di tre meno pi greco dodicesimi, uguale in definitiva, tre radice di tre quarti meno pi greco dodicesimi, risultato dell'integrale e area richiesta dal problema. Ultimo esercizio per questo video, calcola l'area della regione di piano che rappresenta le soluzioni del sistema. Anche qui abbiamo un sistema x compreso tra zero e pi greco mezzi e y compreso tra la tangente al cubo di x e 1, quindi come al solito indico con y1 la tangente al cubo di x e con y2 1 e queste sono le funzioni che delimitano l'area da calcolare. Andiamo a vedere le intersezioni tra la tangente al cubo di x e 1, quindi questo significa mettere a sistema y uguale la tangente al cubo di x e y uguale 1, eguagliamo i secondi membri e abbiamo la tangente al cubo di x uguale a 1, questo significa tangente di x uguale a 1, se facciamo una radice cubica di entrambe i membri, e quindi la tangente di x è uguale a 1 per x uguale a pi greco quarti. Siamo tra zero e pi greco mezzi, quindi questo è il valore che ci interessa in quell'intervallo. Andiamo a farci già un disegno. Naturalmente la tangente al cubo di x a zero è zero e quindi siamo in questa situazione qua, questa è la tangente al cubo di x, y uguale a 1 è questo, questo sarà pi greco quarti e questo è questo pi greco mezzi e quindi l'area richiesta dal problema è quella che vado a segnare, questa sotto la tangente e poi l'area del rettangolo fino a pi greco mezzi. Scriviamoci che questa è la y1 e questa è la y2. Avremo quindi l'integrale tra zero e pi greco quarti di y1, cioè la tangente di x in dx, più l'integrale tra pi greco quarti e pi greco mezzi di y2 in dx, uguale. Sostituiamo e abbiamo l'integrale tra zero e pi greco quarti della tangente al cubo di x in dx, più l'integrale tra pi greco quarti e pi greco mezzi di 1, quindi non lo scrivo, in dx uguale. Ora mi riscrivo il primo integrale come integrale tra zero e pi greco quarti di tangente di x che moltiplica la tangente al quadrato di x, lo posso fare in dx, qui possiamo già calcolare l'integrale immediato, banale, e qui abbiamo x, facciamo tutti i passaggi, da calcolare tra pi greco quarti e pi greco mezzi, uguale, uguale, integrale tra zero e pi greco quarti di tangente di x che lascio così. Mi riscrivo la tangente al quadrato di x come la secante al quadrato di x meno 1 in dx e calcolo pi greco mezzi, uguale, uguale, integrale tra zero e pi greco quarti della tangente di x per la secante al quadrato di x in dx, meno integrale tra zero e pi greco quarti della tangente di x in dx, più pi greco mezzi meno pi greco quarti, uguale, ora, questa è uguale a integrale tra zero e pi greco quarti, la secante al quadrato la scrivo come 1 coseno al quadrato di x per la tangente di x in dx e qui siamo di fronte a un integrale immediato di funzione composta, infatti, abbiamo la tangente di x che è la nostra f di x e il coseno al quadrato di x che è la derivata della f di x, poi abbiamo meno integrale tra zero e pi greco mezzi, anche qui mi riscrivo seno di x fratto coseno di x invece che la tangente in dx e anche qui moltiplicando per meno uno e quindi anche l'integrale per meno uno, siamo di fronte alla derivata prima della f di x, essendo la f di x 1 fratto coseno di x, poi più pi greco quarti, siamo pronti per integrare e abbiamo uguale un mezzo per la tangente al quadrato di x da integrare tra zero e pi greco quarti e poi un più il logaritmo del modulo del coseno di x da integrare tra zero e pi greco quarti più pi greco quarti uguale. Sostituendo gli estremi di integrazione abbiamo un mezzo tangente al quadrato di pi greco quarti, possiamo moltiplicare anche per un mezzo tangente al quadrato di zero che è zero, più il logaritmo naturale del coseno di pi greco quarti, argomento positivo, togliamo il modulo, meno il logaritmo naturale del coseno di pi greco quarti, uguale. La tangente di pi greco quarti è 1 al quadrato di 1, quindi rimane un mezzo dal primo termine, il logaritmo del coseno di pi greco quarti è il logaritmo di radice di 2 su 2 e poi abbiamo più pi greco quarti. Questo è il risultato, possiamo scrivere il logaritmo di radice di 2 su 2 come 2 fratto 4 alla un mezzo più pi greco quarti uguale, uguale, un mezzo, portiamo l'esponente fuori dal logaritmo e abbiamo più un mezzo logaritmo di un mezzo, due quarti, più pi greco quarti, uguale ancora, l'ultimo passaggio, non è l'ultimo passaggio, facciamoli tutti in modo da essere più cari possibili, quindi un mezzo più un mezzo, l'argomento del logaritmo lo possiamo scrivere come 2 alla meno 1, che è esattamente un mezzo, più pi greco quarti, possiamo ancora portare il meno 1 fuori dall'argomento del logaritmo e scrivere, adesso sì, l'ultimo passaggio, un mezzo meno un mezzo logaritmo naturale di 2 più pi greco quarti, il risultato dell'integrale e il valore dell'area richiesta dal problema. Bene, per questo video finiamo qui, in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video, se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettete un like e vi ringrazio, condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no? In descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima!